3 oh 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 ah mio oh sorry sono pronta io eh mentre i vecchi giocano io faccio practice io non provo un gioco per giovani però eh si capo ti sei perso la mia vincita dove sei? quando arrivi ti faccio vedere venga la stecca capo ti sei perso la mia vincita di 70 euro ho sbancato capo i giochi dei bambini perché stanno andando le bambini com'è andata? ah si ok cosa? ok cosa? ok cosa? ok cosa? ok cosa? io ho fatto un tigbe oh Lorenzo, non è così 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 dai continuo ora che cosa hai regalato a Bibi? come i bambini piccoli? era questo che ho sbagliato nuova e avevo fatto una foto su di delerno tipo schicco di piatto spero che carole in tre miei polvo ma la vedo se non lo so la mamma è un po' è un po' felice navi a contarlo con la mamma vai sono